L'ora solare, l'ora solare in questa ultima parte vi racconta una storia molto speciale, anche qui una grande storia d'amore. Intanto ben arrivato a Don Pino Mangano, io dovevo dire Giuseppe ma invece no, Don Pino, vicario parrocchiale a Sant'Antonio Abate di Malalbergo, siamo in provincia di Bologna, ordinato sacerdote il 15 settembre del 2018 all'età di 71 anni. E giustamente rumore, il studio della 71 anni sacerdote. Don Pino ben arrivato innanzitutto e grazie. Grazie a voi. Allora, io chiaramente parto dal come lei si è arrivato a questa importantissima decisione. Come è diventato prete? Intanto una lunga storia perché io sono stato in seminario da ragazzo, giovane, quindi sono stato a seminario Vescovile di Bisegne, provincia di Bari, diocesi di trani, ballette e bisegne. Poi fino alla quinta ginnastia, poi ho fatto tre anni di liceo e l'anno propedeutico alla teologia al seminario regionale di Morfetta, un anno di teologia a Bologna. Quanti anni aveva? Io sono entrato in prima media e sono uscito dal seminario a 21 anni. Poi sono iscritto all'università, ho lavorato, ho studiato, mi sono sposato, ho avuto un figlio e mia moglie è morta dieci anni fa. Intanto io mi stavo preparando per il diaconato, mia moglie aveva già dato il consenso, perché da sposati ci vuole il consenso della moglie. Poi ho continuato a studiare teologia, sono diventato diacono sei anni fa, 10 febbraio del 2013. Intanto avevo dato già la disponibilità all'arcivescovo, alla cardinale Caffarra, per eventualmente diventare prete. Poi Caffarra è andato in pensione, poi il signore l'ha chiamato. Io ho ripetuto la disponibilità al Monsignor Zuppi, l'attuale arcivescovo di Bologna. L'arcivescovo ci ha pensato un po', insieme con i suoi collaboratori, e l'anno scorso, più o meno di questi tempi, mi hanno detto di prepararmi in fretta, perché a settembre, insieme a due seminaristi ceribi di Bologna, che avevano fatto il percorso normale del seminario, e a un altro vedovo con tre figli, sempre diacono da una ventina d'anni, Don Luca Zauli. Lei veniva ordinato sacerdote. Sì. Allora, aspetti un attimo. Don Pino, io l'ho fatta, non l'ho fermata, no? Neanche con queste fotografie che stanno passando, sulle quali ritorniamo, perché? Perché lei doveva correre questi cento metri tutti insieme. Scusate, poi mi commuovo, e quindi non mica siamo fatti di ferro, a un certo punto è naturale anche che questo accada, no? La sua Anna, la sua Anna, quindi un ragazzo che fa prima tutta la scuola, quindi questo vuol dire che lei possedeva già un animo vicino alla Chiesa, allo studio della teologia. Però incontra questa donna, e abbiamo visto una fotografia bellissima, vi prego dalla regia di riproporcela, perché un bacio è un bacio, ma quando è un bacio così è proprio carico di amore, di tanto amore. Questa donna che ad un certo punto della sua vita, quando voi avete un bambino, e lei comincia a capire che la salute nel tempo, piano piano, insomma, purtroppo la tradirà, sua moglie è stata una sua, me lo permette di dire, tifosa, mi scusi se parlo di tifo sul sacerdozio, perché sembra, dovremmo parlare del Dallara, dovremmo parlare del Bologna, lo squadrone che tremare il mondo fa, visto che... Eh va bene, d'accordo, c'era vulgarelli, andiamo. Di più, padre, avevo le... 50. Di più, l'età mia. Allora, sua moglie la invita a perseguire questo sogno. La sua è una storia bellissima, perché sua moglie ci teneva che una volta rimasto solo, lei potesse diventare un prete. È così. È così. Allora, non ci corre a presso nessuno. Sì, durante la sua malattia, negli ottimi anni, lei sapeva che aveva, era verso la fine, mi ha fatto la domanda, ma se io muoio, puoi diventare prete? Ma, dico, nella Chiesa Cattolica di rito latino, e c'è stato qualche caso a Rimini, a Palermo, che dei vedovi sono diventati prete. Dico, io mi rimetterò nelle mani dell'arcivescovo, che è il canale con cui Dio decide se una persona deve essere ordinato prete o no. Dico, io darò la mia disponibilità e l'ho fatto, l'ho fatto per iscritto ai due arcivescovi di Bologna, perché? Ma quel giorno dell'ordinazione, questa donna, sa, quando le persone vanno via purtroppo avviene un ammanco molto importante che è quello fisico, oltre a tutto il resto, noi non li vediamo più, però c'era. Certo. C'era. C'era. Un posto in chiesa libero al primo banco c'era. Certo. Per Anna. No, l'arcivescovo è stato molto delicato per le due nostre mogli, mia e dell'altro di Acco, non vedo che diventava prete, le ha nominate nell'intenzione della messa dell'ordinazione, quindi è stato delicatissimo. C'era. Come io ho pianto quando l'arcivescovo nella messa a Crismale ha dato l'annunzio al presbiterio di Bologna che sarei diventato prete, io ho pianto tutta la messa, poi l'arcivescovo ci ha un po' scherzato, mi ha un po' risollevato, insomma, ma se viene da piangere a noi, Don Pino, abbia pazienza, è autorizzato dalla torre di controllo, scusi, non perché io sia la torre di controllo, ma è autorizzato, Don Pino, a piangere. Sabe che piangere fa bene dopo gli occhi si lavano e si vede tutto meglio. A proposito di vedere tutto meglio, ma suo figlio, vostro figlio, bravo, vostro figlio, vostro figlio, Francesco, prego, se no poi restiamo con i lacrimoni e non andiamo avanti, vostro figlio Francesco, lo vediamo qui, quanto è fiero di questo papà sacerdote? Non si può dire, non c'è una misura. Non c'è una misura, ha ragione. Noi abbiamo condiviso insieme tutta la malattia di mia moglie, quindi ci siamo sostenuti a vicenda. Certo. E quindi lui sosteneva me, io sostenevo lui. Anzi, se posso dire una cosa, lui è stato molto adulto durante la malattia di... Della mamma. Della mamma. perché quello fa crescere ancora più in fretta, Cioè richiede... Perché il taglio di un cordone umbilicale che non ti aspetteresti mai e invece purtroppo accade che possa venire reciso. Però, però... Io provo ad immaginare, perché così ci facciamo anche... spendiamo un sorriso. Le persone che la conoscono che a un certo punto si sono ritrovate questo sacerdote di 71 anni, ma a parte se li porta in una maniera splendida. Io sono sempre stato con i ragazzi dell'oratore. Eh ma si vede, l'ha fatto bene. Correvo avanti e indietro per il campo da calcetto. Quindi insomma, ha il fisico da prete di oratorio. Mi piace camminare. Certo, certo. Poi mi piace camminare in mezzo alle strade e incontrare le persone. Magari mi dico il rosario mentre cammino. Però è anche l'occasione per conoscere le persone, vedere le varie famiglie dove io poi o prima o dopo vado a benedire. E poi ritornare l'anno dopo magari le persone che non vengono abitualmente in chiesa. Magari li saluto per strada o al bar. Ah, lei ha l'area di uno che se li va a prendere? Beh, lo dico, no, lo senti. Non lo volevo dire. Però vede che ride. Nel senso che... Qui vicino alla foto con gli occhiali c'è il mio padrino di Crescima. Sì? Uh, però. Che era presidente dell'azione cattolica quando io ero in seminario. E siamo stati in seminario insieme poi anche lui è uscito e ha organizzato qui nella mia parrocchia natale a parrocchia di San Giuseppe e ha corato. Ha organizzato la mia prima messa nella mia parrocchia natale. Ci sono tutti i miei amici di infanzia che sono stati molto carini e sono venuti all'ordinazione a Bologna. Suo figlio c'era? Vostro figlio c'era? Sì, sì. Ovviamente. Dove vive ora Francesco? È a Madison nel Wisconsin. Dietro l'angolo proprio. Cioè, sono... Nel biglietto dell'aereo c'è scritto che sono a circa 8 mila chilometri. Ma valeva bene la pena farli 8 mila chilometri per questo papà. Lei è anche nonno? Sì, di tre ragazzi una signorina di sedici e due gemelli. Vicario parrocchiale con figlio e nipoti eccoli qua. C'è Giuseppe che c'è il mio nome poi c'è la Francesca e poi c'è Vasco con gli occhiali vicino a Melli. Eccolo lì. Qui siamo all'aeroporto di Bologna e a giugno siamo andati a Palermo in vacanza. E loro di questo nonno sacerdote cosa dicono? Beh, loro parlano prevalentemente con mio figlio perché... Eh, certo. Sì, e loro vanno a scuola lì in America abitano in America e... Sì, parlano prevalentemente inglese qualche parola di italiano ma la ragazza che fa il superiore che fa lo spagnolo le ho fatto gli auguri di compleanno in gennaio siamo riusciti a scambiare qualche frase. È bellissimo perché si è completamente tolto l'abito parrocchiale sta parlando da nonno sono stupendi i nonni sono uguali dappertutto cioè potrebbero anche essere i re d'Inghilterra eh, il secondo studia eh, beh, perché ha fatto questo ha fatto quell'altro è bello che lei ne parli così. Ma io faccio il nonno anche quando celebro la messa che ci sono i ragazzini Lei è ragazzino tra i ragazzini è un prete giovane perché è stato ordinato prete da pochissime è un uomo con una grande storia Infatti vado al raduno dei giovani preti è il responsabile del vescovo che cura la formazione dei giovani preti quando mi vede si mette a ridere si fa una gran risata ma noi invece facciamo un applauso a Don Pino Mangano a Santa Antonia guardate di Malalbergo vicino Bologna abbiamo terminato abbiamo terminato tra poco la recita della coroncina della Divina Misericordia poi siamo noi l'ora solare torna domani però lo facciamo l'abbraccio finale, vero? Ma sì che lo facciamo va niente se siamo usciti fuori di qualche secondo prego signori potete venire ad abbracciare questo parroco meraviglioso viceparroco viceparroco l'avevo già promossa Don Pino viceparroco ma ha specificato? di fatto mi fa presiedere a me perché le parroco non sta tanto bene però per correttezza viceparroco viceparroco e queste sono le storie che accadono all'ora solare basta tenere la finestra aperta grazie a tutti ci vediamo domani questa è l'ora solare grazie padre grazie grazie mamma ma grazie ma complimenti